Stati attenti, le innovazioni iniziano stasera. C'è qualcosa che voglio vedere. Cosa è questo? Ci sono gli archivi, dove stiamo guardando le ricordi del lavoro di Earth. Tu sei uno di noi, un warrior di Gode. Cosa è una persona per l'altra? Non c'è un'esplamazione. Cosa può prendere nessuno. Cosa! Cosa? Perché il dimentico non è il tuo corpo, ma il tuo corpo. Il dimentico. Non so... Cosa? 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 Ci scegliamo! Ci scegliamo! Grazie a tutti.